Abbiamo fatto un buon lavoro per rivederle un po' in generale. Quello che abbiamo fatto arriva soprattutto da vostre richieste. Non siamo mai stati bravissimi a fare il Koshur. Ci ha voluto un po' di tempo per capire qual era la strada per poter raggiungere un livello buono. Non dico ottimo ma almeno buono. Secondo me ci siamo riusciti, possiamo sicuramente migliorare. Però quelle che vedrete che verranno distribuite a breve sono sicuramente un passo avanti rispetto alle precedenti. Sono molto più versatili, hanno un formato più grande. Grazie. 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 Grazie a tutti.